Dai andiamo a fare coppere, che bello, tutti contenti alle ore 19.40, che spettacolo! Lassate un po' troppo sta macchina, l'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia che sclera, non sento, però bravi eh, non sento Klageson, vediamo un po', ma che bravi eh, come sono tutti belli, tutti impilati da una giornata di lavoro, come sono questi cresciti buoni eh, come stanno diventando bravi eh, sta riuscendo l'operazione di lobotomizzazione cerebrale, bravi, bravi, ma vi volete un po' a cazzare? Ogni tanto a finire di esulare dal secondo che sta male, questi cazzo di lavori, questi cazzo di lavori, prima volta da questo, è finito il rumpineo, è finito, ma cosa è fai strade? Snauz eh, un po' snauz, diciamo un po' snauz, non c'è critica, non c'è me, e dai, e dai, così, ora te riconosco, ma volete suonare un po' a cazzo? Quanti cazzo, una roba da pazzo, roba da chiodi, come dicevi Pazzo, 10 dicembre, lungo Devere, desera, tutto stretto, verso San Pietro, stavo in tempo da Giumpileo, paradì, giusto e mal, rispetto ai miei lavoranti, che ne sono naviganti, bella mezzì, suona! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti!